La manina. Mio padre faceva il giardiniere ma non aveva tanto occhio da spingere la carriola attraverso il cancello del conte catafratto senza danneggiarlo e il conte glielo faceva pagare e decortandogli la paga. Io avrei voluto pagare al posto di mio padre. Così da grande feci l'assicuratore. Cominciai come subagente di un'agenzia del mio paese. Durante la guerra vedevo i mortai sbocconcellare i muri delle case e avrei voluto pagare tutti i danni della guerra. Diventai così titolare di un'agenzia di provincia. Anche mio figlio volle fare l'assicuratore ma a vent'anni fu investito e ricordo che me lo riportarono molle come un guanto rovesciato. Per dimenticare aprì un'agenzia di città e adesso ho molti assicurati. Quando qualcuno di loro vuole passare alla concorrenza perché le polizze in internet costano di meno io gli dico ma se fai l'incidente. Chi ti dà la manina? Vedete io non conosco il suo nome ma la sua forza è spaventosa. Mangia di gusto, si copre bene, dorme comodo, ha tutto quello che dovrebbe avere ma vorrebbe ad ogni costo tanti assicurati. E' l'assicuratore medio. Ebbene qualche volta sogno che l'assicuratore medio mi monti a cavalcioni sulle spalle e a naspo per accendere la luce, il cuore mi martella, la fonte è madida di sudore. Poi mi accorgo che è stato un sogno e grazie a Dio riconosco che con l'assicuratore medio non ho niente da spartire. Perché io i miei assicurati li amo. Commento. Le guide ripetono che non si deve mai rinunciare ai propri ideali, anzi, li si deve coltivare per tutta la vita tentando di realizzarli appena se ne presenta l'occasione. Infatti, chi vive per un ideale, qualunque esso sia, evolve molto di più di chi vive senza ideali.